Cos'è successo, caro? Io mi chiedo, cioè, o è una telefonata che può salvare il mondo, oppure non ha senso. Ma sta strana è di merda, mi dà proprio l'idea che non possiamo distruggerla. Per ora no. A forza sarà come altre missioni in estero, eh, finisce prima che distruggi l'astronava. Lo frisco alle ondate. Io intanto raccolgo le casse. Che non so male. Secondo me la missione è quasi finita, comunque. Allora, io intanto sto chiamando il mega robot. Cominciate a venire verso di qua, perché io giù la vedo un sacco di altri posti con lo scudo che se non ho mai bisogno distruggere. Se venite dove sono io saliamo tutti sul robot e così li facciamo fuori. Arrivo, dai. Penso che stia arrivando l'elicottero da qualche parte. Ecco, lo so, sì, è sopra di te. Ok. Allora, io guido. Eccomi. Ciao black. Black, sì. Ho salvato il mondo. Allora, black sai anche tu. Amico non sentivo, ho un po' quindi stava un po' lungo la voce. Black sai anche tu sul robot gigante che andiamo a distruggere quelli con gli scudi. Però non usate tutti i colpi finché non si avvicini, altrimenti li sprechiamo. C'è lo salito che non vedevo bene. Oh, adesso lo vedo bene. Oh, adesso lo vedo bene. Velocissima sto robocco, comunque ho. Una scheggia. Adesso mi fa saltare. Non serve a un cazzo saltare. Adesso vai piano, vai piano e ci schiantiamo. Io vado in bagno. È tipo quello di Robocop, però è in versione gigante. Dai, c'è un quasi. Poi c'è un sistema di mira, diciamo, un po' ocean. È anche un pezzo di visuale, mi sa che ve lo muovo io. Oh, cazzo. Eh, quella è l'astronave sopra. Sette FPS. Ti posso contare, ho avuto set. Non si fotte però. Adesso noi entriamo lì e facciamo fuori sto scudo. No, di un'astronave non si fotte. Non ne ho idea. Lo scoprì. Siamo nero morta, la morta è infottibile. Eh, uno è andato, vedo. Io vedo degli screenshot, praticamente. C'è una formiga addosso. Ah, vabbè, siamo dei robot. Cazzo, ma ne siamo orti i robot? Ma che merda. Ma perché se sparate dove c'è davanti allo scudo, ci facciamo male anche noi. Dovete aspettare che siamo dentro. Ma perché c'è uno scudo? Non ce l'ho visto. Lo scudo quello dei nemici. Cazzo. C'è un becchio. C'è un becchio. Mica, ci sono anche i robot avversari che ci stanno sparando. Allora, ho un po' di formiche qua, le riusciamo a togliere di mezzo, dai. Ma appena le formiche, infatti, le sto a tirare fuori io. Ok. Vediamo che salta. Allora. No, ce l'hanno fatto fuori, stronzi. No, non ce neanche i palazzi, mamma mia. Io senza i palazzi sono morto. Che cazzo è che spalta sta roba? Ah, ma è l'astronave sopra. La storia è sopra, sono più impiazzata. Mamma mia, che cazzo. Ho distrutto uno scudo in un frattempo. Bravo. Allora, là non mi conviene andare, che sono solo forse. Che cazzo spara. Iota, lo sai che le carote assorbi di più se sono cotte? Eh, vabbè, le mie non sono crudo pre-cotte. Ci sente da come le mastichi. Sì, non cura. Mi chiede le formiche rosse, ho tostissime. No, a che cazzo non ho sparato? Adesso lo ho tosta anche nella vita reale, insomma, pungono. Cazzo, aiutatemi. Come sai? Ah, cazzo. Aiutate voi. L'astronave sopra è sburgo laser. Eh, sì. Perché con l'hacer non posso con i missi non posso fare niente alle formiche? Beh, che devi portarti dietro sempre i missili, però anche la mitragliatrice per queste situazioni. Cazzo. Un minchia. Un minchia di merda. Questo è andato. Trovare un po' di energia se no sono morto. L'astronave sopra è sable e lancia delle robe schifose. Bisogna sparare anche la stranazione sopra. Cazzo. Un minchia di merda. Cazzo. Come sai se ne sta andando? Perché sono tutti morti? Sono io e black. No, io sono morti. Non sono sti-da volte a fare. Vabbè, ci lasciamo, dai, con me sono poche. Ma piccate sono sti-robo di merda. Eh, lascia mi far mica di merda. Che non riesco a fargli niente. Ma no, salvami tu rosa, bravo. Grazie. Ti salvo io. No, con le rosse, puttana. Ti salvo io. Inche, devo scappare. Ma va a cambiare. No, mi ha preso, formica di merda. No, ti salvo io. Non so. Per il momento mi sta continuando a masticare. Ok, ce lo faccio. Ti ho salvato. Se ti serve energia... No, no, io non. Non lo so, però, vai. Quante frasi ci stanno? I'm going to sleep. Ask. Ma non muore mai. Back questions. Are we winning? Uccidete il robot prima che vi ammazza. Che non posso anche chiamare il... Vabbè, adesso lo saliamo. E' più l'altro che sono lì... Eh, esatto. Quello è la rottura. Io pure sono vicino a te a tre robot. Che pale. Aspetta che... Aspettate che si allontani il robot. Tanto tallo le casse. Sì, il problema è che con il mio fucile a cecchino di merda non vi faccio niente. Energia. Quanto la va a prendere? Un scopo. Minchia che bastardo. Vabbiamo se riesco ad ucciderli. Comunque l'astronave sopra è perlomeno andata. Mancano solamente questi. Cerchiamo di mettere tutti e due contro quello lì che è fuori. No, ma chi è che cazzo mi ha sparato da dietro? No, è tornato dentro lo scudo con i cameri. Porca troia. No, no, non parliamo.